Il laboratorio di teatro dell'Istituto Fantoni di Clusone è anche quest'anno pronto ad andare in scena con uno spettacolo. Che cosa presenterete questa volta? Allora, lo spettacolo si intitola Padiglione 13 e parla di un gruppo di donne che sono rinchiusi all'interno di un padiglione appunto in un campo di lavoro in Russia. E a questo teatro poi è stata aggiunta anche la parte maschile che si è stata cercata di integrare. La storia è stata tratta da un libro che ha trovato la professoressa Bigoni. Passo la parola al mio collega Daniele Gris. E poi noi che siamo tutti dal gruppo teatrale abbiamo chiesto, abbiamo aggiunto anche al nostro gruppo il supplemento di alcuni studenti che hanno l'interesse per la musica e quindi abbiamo chiesto proprio a loro di scrivere qualche canzone da usare poi come colonna sonora per il nostro spettacolo. Allora, la nostra storia si ambienta nella Colima, una regione della Siberia orientale, dove la temperatura era di meno 50 gradi. La temperatura loro la calcolavano grazie allo sputo, cioè sputavano e se lo sputo si ghiacciava allora era meno 50. La nostra storia vuole mostrare la negatività dei Gulag, che molte volte non annientavano solo fisicamente il prigioniero, ma distruggevano la sua personalità, la sua persona, per poterla poi plasmare come voleva la volontà di Stalin. Noi volevamo dare testimonianza di questo evento mostrando delle scene di vita di questi campi. Oltre a questo noi vogliamo mostrare che nonostante l'ambiente negativo vogliamo dare un messaggio di speranza, perché nonostante tutto ci sono state delle persone che hanno mantenuto una particolare dignità, non sono crollati in questi ambienti durissimi. Perciò noi vogliamo mostrare che nonostante tutto c'è speranza e questo lo mostra anche il nostro finale, che ti lascerà molto sorpreso. È una cosa veramente inaspettata il nostro finale. Abbiamo detto della colonna sonora dello spettacolo, che è curata dal gruppo musicale della scuola, dell'Istituto Fantoni. Non è la prima volta che vi esibite? Beh, no. Ad esempio, l'ultima volta che ci eravamo esibiti era stata al prom, per esempio, che era una festa che avevano organizzato i rappresentanti di classe, oppure, va bene, le varie repliche che abbiamo fatto del teatro precedente. Poi quest'anno, insieme al gruppo teatrale della scuola, faremo il teatro il 6 di giugno. Che tipo di musica avete scelto per questo appuntamento? Allora, sono, diciamo, canzoni che venivano in parte scritte all'epoca sovietica, insomma, dei gulag, oppure altre abbiamo inventate noi per la maggior parte dei casi, in realtà. In quanti siete? Allora, il gruppo musicale quest'anno è formato da circa 6-7 componenti, però, diciamo, è stata importante anche la parte dietro, dietro tutto questo progetto, infatti, diciamo, tutti si sono impegnati molto sia per comporre queste musiche, cercando quindi di restare sulle sonorità, diciamo, della musica tradizionale russa e quindi cercando poi di inserire anche dei testi adatti, quindi comunque sui temi, diciamo, di questo periodo storico e anche a volte cercando di riarrangiare, adattare canzoni un po' vecchie, però cercando di riadattare alle sonorità delle altre canzoni che abbiamo adattato al teatro. E abbiamo qua il chitarrista del gruppo, che, diciamo, ha scritto il testo della nostra canzone e anche la parte della chitarra, quindi se vogliamo sentire la sua testimonianza. Chitarrista, nonché cantante, insomma, come ti sei fatto ispirare per queste canzoni? Mi sono fatto ispirare principalmente dal copione e dalle storie che sono state prese, che hanno ispirato appunto lo spettacolo e proprio queste storie di questi luoghi così remoti, di queste steppe desertiche della Russia, hanno ispirato queste canzoni che cercano di trasmettere un po' la desolazione di questi luoghi e la condizione delle persone che erano rinchiuse nei campi gulag.